Il porto di Napoli apre la strada anticipando le altre autorità portuali con un ottimo piano di sviluppo. Lo ha detto il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio a margine della presentazione del piano operativo dell'autorità di sistema portuale del Martirreno Centrale in corso a Napoli. Questa regione, quest'area metropolitana napolitana e più in generale l'area costiera, il sistema portuale campano ha le potenzialità per essere davvero il leader nella ripresa dello sviluppo del mezzogiorno. Un primato che però ora necessita di essere consolidato. Per questo il governo ci deve dare una mano, ha ribadito il presidente Pietro Spirito, che ha parlato del nuovo waterfront e delle opere di dragaggio, opere che inizieranno a luglio e dureranno due anni, così come a Salerno dove ci vorranno circa otto mesi per completare i lavori. Sui tempi De Luca si è molto raccomandato perché scavare un po' di sabbia, ha detto, non diventi un calvario burocratico. Ha aggiunto il presidente della regione che ha anche chiesto una maggiore connessione tra i porti di Napoli e Salerno. E proprio sul piano dei trasporti il ministro del Rio ha annunciato l'apertura a giugno prossimo della stazione ferroviaria ad alta velocità di Afragola, una delle opere strategiche per lo sviluppo della campagna e del mezzogiorno. A giugno noi apriremo la stazione di Afragola come vi avevamo promesso un anno e mezzo fa e quindi cambierà completamente la geografia dei collegamenti nord e sud perché sarà possibile raggiungere Reggio Calabria in tempi molto più rapidi di prima. Un altro punto fortissimo in cui mettiamo un segno, un paradigma del cambiamento dello sviluppo.